Deve essere dentro. Ci siamo. La squadra è brava. I soldati scomparsi. Sono qui. È lei. È sempre stata lei. Ai margini, nel buio. Sempre lì. Lei. Oddio. Che cosa gli ha fatto? Oddio. Mi gira la testa. No, mi serve l'ultimo antidoto. Torca! Questa è l'ultima. Taro e Tana ancora ganiati. Sarai al mio servizio. E quando morirai. Mi... E vittoo. Sì! 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 Sì, sì! Sì! Devi petsa! Sì! 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 Oh, 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 oh. Oh no! 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 Oh no!